Quest'anno purtroppo dobbiamo rinunciare al nostro pranzo sociale tradizionale, ma è ancora più forte il desiderio di condividere insieme emozioni e un momento di festa. E quindi abbiamo deciso di organizzare per domenica 21 marzo una giornata al cinema. Proietteremo in streaming due film, un lungometraggio e un cortometraggio di animazione. Si tratta di due film che non sono ancora stati distribuiti in Italia, hanno partecipato a diversi festival e hanno ricevuto anche importanti premi. Il primo è un lungometraggio che si svolge tra Polonia e Irlanda e racconta le vicissitudini di una ragazza di 17 anni che si trova ad affrontare una situazione di vita difficilissima, al termine della quale rivaluterà il proprio rapporto con il padre. Il cortometraggio invece dura appena 5 minuti e in modo divertente e con un pizzico di amarezza cerca di affrontare il tema della responsabilità individuale e collettiva. Non aggiungo altro per non rovinarvi la sorpresa e quindi vi invito a seguire gli aggiornamenti sul sito e sulla nostra pagina Facebook. Vi aspettiamo numerosi domenica 21 marzo. A presto con noi al cinema. Ciao! Ciao!